La partita scorsa, quella di domenica, è stata una partita iniziata male. Abbiamo avuto un approccio sbagliato dall'inizio e poi non siamo più riusciti a recuperare. Questo è stato un errore da parte nostra. Forse ci hanno fatto male le settimane di riposo e quindi ripartire così pronti via è stato un po' un trambusto. Però questo logicamente non può essere usato come giustificazione. Dobbiamo riprenderci immediatamente per la partita prossima, che è una partita forse ancora più importante. Quindi il momento della squadra è quello di sempre. Logicamente manca una componente essenziale che è Repegia. Speriamo che ritorni il prima possibile, però noi stiamo continuando a lavorare. Siamo logicamente sempre determinati come al solito. Quindi dobbiamo cercare di affrontare le partite con più serietà, con più da subito, con impegno. L'assenza di Repegia quanto influenza questa quotidianità? Molto, perché lui ha sempre un approccio molto serio, determinato, quindi molto esigente. Quindi richiede tanto da noi, giustamente. Questa è una sua mancanza che si fa sentire, ma come ho detto tante altre volte, anche l'apporto che stanno dando Luca Pentucci, Paolo Calbini, quindi vice allenatore assistente, è ottimo. Quello che stanno facendo è ottimo. Quindi dobbiamo cercare di coprire questa mancanza e andare domenica a cercare di vincere. Che avversario sarà Varese? È tosta, perché comunque Varese sta lottando per salvarsi e lo sta dimostrando. Comunque domenica scorsa ha vinto anche, quindi sarà una partita tosta, soprattutto anche perché l'ha in trasferta. Quindi dobbiamo partire subito cattivi, partendo piano, senza partire piano. Quindi dobbiamo farci trovare pronti e dobbiamo lavorare bene durante la settimana.